Gentile cliente, hai fatto un ordine su chefline.it e sei in attesa di ricevere la merce? Queste istruzioni ti saranno utili in caso di danni dovuti al trasporto. Seguile attentamente. Per consentirti di aprire il pacco, il corriere ti chiederà una firma per ricevuta, come previsto per legge. Ma attenzione! Prima di firmare, controlla bene l'imballo. Se il cartone o il pallet appaiono danneggiati, puoi scegliere di respingerli senza firmare oppure accettarli indicando il danno, riportandolo per iscritto sull'apposito cedolino cartaceo. Evidenziando il danno per iscritto, potrai controllare la merce in un secondo momento ed effettuare resi e contestazioni se è danneggiata. Chefline invia la merce con copertura assicurativa totale. Attenzione! Se firmi senza indicare il danno, farai decadere la copertura assicurativa e non ci sarà più possibile aiutarti. Conserva una copia del cedolino firmato da te e controfirmato dal corriere. Ti sarà utile in caso di contestazioni. In caso di compilazione su tablet o palmare, fotografa la schermata ben leggibile della specifica danni e inviaci le foto. Se il corriere non dovesse accogliere queste procedure, respingi il pacco senza firmare e contatta subito il nostro servizio clienti.